Ecco un'altra allenatrice della squadra di Franca Bianconi, Sofia Curci, molto elegante, è molto in longe linea, anche lei è in lotta per il terzo posto, il doppio Axel, molto bene eseguito. Triplo Sarkov, forza due piedi. 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 doppio axa, il tolup semplice questa ragazza ha difficoltà a trovare la giusta scivolata dopo il salto dovrà uscire dall'aria con la gamba dietro ferma, dritta di modo da creare una certa velocità d'uscita dal salto è importante eseguire per la rotazione tutta in aria quindi avere anche tempo di creare questa velocità d'uscita perché vedrete magistralmente da Carolina Costner e da Valentina Marchei che ormai ha raggiunto anche un livello di sicurezza nei salti davvero eccezionale finisce questo programma un po' troppe incertezze, troppi arrivi credo, dubbi per appunto arrivare a quel terzo posto di cui abbiamo parlato per rappresentare l'Italia agli europei di Berna vedremo ora il giudizio vedremo se appunto riesce a superare a presto